buongiorno full timer pesca in pesca abbiamo tutta la nostra bella super attrezzatura oggi la vedo con la micro cannina o micro pe non prende benissimo fino a dire vale 5 minuti nina di quelle veramente bene guarda che posta super bella ma fa anche caldo di verità c'è poca gente possiamo vedere se riusciamo a beccare un mega pezzo con la nostra micro attrezzatura che veramente piccola